Sette milioni di persone vivono negli Stati Uniti d'America nella minaccia di terremoti artificiali causati dal fracking. Secondo le mappe pubblicate dal United States Geological Survey, l'agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti che studia il territorio degli USA, le sue risorse naturali e i rischi che lo minacciano, Oklahoma, Kansas, Texas, Colorado, New Mexico e Arkansas sono le zone più vulnerabili alle scosse artificiali, mentre California e Nevada sono maggiormente a rischio di terremoti naturali. La preoccupazione per i terremoti causati dagli esseri umani è aumentata con l'utilizzo diffuso della fratturazione idraulica, tecnica di estrazione di petrolio e gas. Il processo consiste nell'iniettare una combinazione di acqua altamente pressurizzata, sabbia e prodotti chimici negli strati di roccia per rilasciare gas e petrolio sepolti nel terreno. Tuttavia l'eccesso di acqua e di scarico è depositato in pozzi sotterranei che possono essere situati sopra o vicino alle faglie telluriche. Nel 2015 uno studio della Southern Methodist University di Dallas ha dimostrato che i 27 terremoti che hanno sconvolto il nord-ovest della città di Fort Worth in Texas tra il novembre 2013 e il gennaio 2014 sono collegati con la fratturazione idraulica. Non bastasse ciò, secondo gli studi dell'Università dell'Oregon e di Cincinnati, il fracking produce sull'uomo un aumento delle malattie respiratorie e del cancro a causa del rilascio di idrocarburi policiclici aromatici e di radon, un gas radioattivo di origine naturale che rappresenta la seconda causa di cancro i polmoni nel mondo dopo il tabacco. Grazie a tutti.